Care future mamme, l'obiettivo di questo corso è rispondere ai dubbi delle gestanti rispetto al cambiamento del corpo in gravidanza, al quando venire in ospedale e a quello che è il percorso dal travaglio al parto. L'ostetrica vi accompagnerà in questo percorso a partire da questo video che troverete sul sito del Policlinico insieme alle indicazioni per la donazione delle cellule staminali del cordone umbilicale, alla donazione del latte materno e all'agenda del percorso nascita dove sono segnalate tutte le visite di tutto il percorso. Durante questi corsi scoprirete che l'ostetrica vi sarà accanto all'accettazione in pronto soccorso, durante il percorso in sala parto del travaglio del parto e nelle giornate di degenza in puerperio. In puerperio vi saranno date indicazioni sull'allattamento materno o sull'alimentazione del vostro bambino e alla dimissione riceverete una visita presso l'ambulatorio del puerperio per vedere come sta andando il decorso a casa. In consultorio troverete un percorso mamma papà e bambino che vi seguirà nel primo anno di vita. Care mamme non sarete sole, l'ostetrica è sempre accanto a voi.